Ehi la ciurma! Ci troviamo qui oggi invece con Prime Arena Diamo un'occhiata a quello che ci offre e cerchiamo di capire un pochettino che cosa capita Allora... Ah non sappiamo niente, c'è scegli un eroe e clicca play Allora... Non mi dispiacerebbe una tizia ranged Non lo so se... No, questa forse è mago Ma non c'è qualcuno con un arco normale, vabbè andrò con questo qua allora, un desperato, vabbè proviamo Da quello che dice il titolo è un mix tra MOBA e Battle Royale Allora io non so che cosa possa uscire da tutta sta roba qua Ma lo proviamo, vediamo... Boh... Per killing a boss in the center of a map, the hero gets a buff until the end of the game Ok, vabbè ci sta Ah, c'è tutta... Ah no, ok, gli altri sono tutti bot Cioè c'è un tizio... 1516 cos'è? Tipo l'elo C'è Serginia 23 e poi tutti gli altri sono dei bot Proviamo, vediamo... Cos'è questa roba? Niente... Boh... Eh sì, ok... For killing a boss of the boss 19 e 57, un po' sbagliato come orologio perché sono le... 22 e 57 Sì però Serginia, comprati un computer del 2017 magari, eh? Io intanto guardo... Ah, guarda... Ah no, ho finito di caricare, cosa sta succedendo? Come mi muovo innanzitutto? Ah ok, col destro Bici che è lì,能andone di Everybody's Chi can ok mi sto uccidendo di brutto aia 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 in base mi curo mi sto uccidendo di brutto aia con la F cosa succede? niente eeeh si ho capito di non aver capito niente in pratica survival instinct è quello che spara e va indietro però ah sono contro che neppor e una marea di bot no qua è chiuso? no aia mi stanno uccidendo aia ma mi fanno un danno enorme niente allora con qualcuno con difficoltà bassa e tipo vabbè con le basse questo vai ah dlc coming soon vuol dire che ci faranno anche dei dlc su sta vera roba qua ah come lo sono sceso sì perché mi hanno massacrato di brutto due volte eeeh quindi niente ne patisco le conseguenze ma sta tettona qua vabbè no ho già detto eeeh che sono ready ah si muoiono in una direzione dando 115 di danno a tutti i nemici vabbè non lo sapremo mai ah questo è quello che giocavo prima lol è quello che ho adesso è questo no non credo no è diverso no è lui sì la fascia ce l'ha la spada ce l'ha la pelliccia ce l'ha mi sa di sì ma qua è chiuso mi sa di sì o forse no non si passa di qua ho visto qualcuno passare di qua ma no vai no cosa ho usato non so che cosa ho usato niente niente è andata proviamo la naga qua con quattro braccia allora si muove in un posto attaccando ogni nemico nel percorso eeeh avvelena per 5 secondi eeeh vuole ogni 20% di possibilità di schivare gli attacchi eeeh a forza tutti intorno al nemico ad attaccarla per 2 secondi perché e si sbloccano a tutti i livelli delle abilità in più ok ok proviamo vediamo l'elio è sempre 1496 come cosa è successo nel 1496 non mi ricordo più 1496 cosa è successo nel 1496 guardiamo è in tempo reale 1496 ma eventi eeeh vabbè Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina ma cosa me ne frega ah Cristoforo Colombo completa il suo secondo viaggio nel nuovo mondo ma nooo l'avevo quasi ucciso niente proviamo questa è molto difficile quindi di sicuro vinceremo ma come tutto sto tempo di attesa siamo scesi ancora 1489 cosa è successo nel 1489 boh no però non fatemelo controllare di nuovo cioè ho già appena controllato 1496 che non vi ricordavate ma come coming soon 1489 coming soon che cosa vuol dire ma sei scemo dai ancora 20 secondi per morire ma dai ma che discorso è questo forse non devo andare all in contro i tizi dovrei farmare per me magari un pochettino di mostriciattoli così salgo di livello buono boh però non capisco neanche come è fatta la mappa ah per uccidere un mini boss tiene un un oggetto raro ok ah sono contro tutti i AI quindi vabbè yes ma eeeh come faccio a passare da un'altra parte ah si passava di qua va che storia dai che lo uccidiamo a sto giro yes yeah c'è qualcun altro qua in giro no non che io veda ah eccone uno vai dagli dagli addosso yes il life glyph non so se mi recupera energia o che non vedo niente nessuno ottimo discorso dai così saliamo un po' di livello ce ne saranno ancora altri in giro no penso mi no questo non posso attaccarlo ne uccidolo ne niente proviamo a scendere di qua ci stanno ammazzando ancora da soli quindi perché diventa tutto rosso sto perdendo un sacco di vita a battle royale per quello perché c'è la zona insanguinata ma da che parte devo andare di qua ok qua nella safe zone uff però vertitemi un attimo prima di doversi restringere la safe zone ah siamo arrivati in 8 oddio allora ce la faremo non lo so dai yes è andata aspetta raccogli il glifo qua e se ne resti in 4 forse si starà ah l'anomalia ha distrutto il meccanico aia no aia ci sto morendo vado a farmare qualcuno va che aia non sono più in safe zone e ma come rientro adesso e non posso più rientrare mi sa ma ma eh no sono bloccato sono bloccato cosa dai dai che ce la faccio forse no ok ok ah yeah non ci credo siamo arrivati là per ultimi e ce l'abbiamo fatta first among equals yes 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 non è male una volta capito effettivamente non è male una volta capito siamo ritornati nel 1506 ok ah ha senso ha senso ha senso ho capito perché dice che è a metà tra il mobile e il battle royale ok boh vabbè questo era eeeh prime marina io vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un mi piace un commento iscrivervi eccetera eccetera ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti